I farmaci al giorno d'oggi sono nella quasi totalità dei casi dei prodotti industriali, cioè a dire c'è pur sempre una possibilità che il farmaco venga preparato direttamente in farmacia, i cosiddetti farmaci galenici, però nella maggior parte dei casi il farmaco è un prodotto industriale particolare perché lo scopo del farmaco non è un consumo come altri generi di consumo, ma l'obiettivo del farmaco è la tutela della salute, però c'è questa dimensione industriale, quindi le aziende farmaceutiche sviluppano farmaci, quando il farmaco è ancora in fase di studio, quindi alle volte è ancora molti anni prima che arrivi sul mercato, l'azienda farmaceutica ha la possibilità di mettere un brevetto, come si dice, di brevettare la molecola, da quel momento in poi per un certo tempo, che è un tempo di circa 20, tra i 20 e i 25 anni, quel farmaco non è copiabile, è una proprietà protetta da brevetto da parte dell'azienda che appunto sta sviluppando il farmaco, poi il farmaco arriva sul mercato, sapete che c'è anche un nome commerciale, il cosiddetto brand, e il brevetto dà una protezione, il farmaco non può essere prodotto da altre aziende, fino a che poi dopo non arriva il momento che c'è la scadenza del brevetto, quindi dopo tanti anni dal momento iniziale di copertura della... e da quel momento in poi è possibile che altre aziende producano farmaci che hanno lo stesso, poi direi meglio come sono fatti i generici, però diciamo a quel punto è possibile avere dei farmaci che sono copie del farmaco iniziale e quindi sono i farmaci equivalenti.